Un punto per parte al Dompino Puglisi, dove Montespaccato e San Giovannese si dividono la posta in palio, impattando sull'1-1. Partono forte i padroni di casa, che al quarto d'ora passano con Anzini, il cui tiro cross beffa Cipriani e si deposita in rete. La reazione degli ospiti è affilata a Falomi, che gira alto il cross di Baldesi. Al ventesimo Gambale scalda i guanti di Cipriani da posizione defilata, poi la San Giovannese perviene al pari. Punizione di Gerardini, sporca dalla barriera sui piedi di Rosseti, abile a incrociare e a battere tassi. Termina così la prima frazione. Nella ripresa parte di nuovo forte il Montespaccato, ancora con Anzini, il cui sinistro trova pronto Cipriani. Al quarto d'ora grande chance per Videtta, che incorna bene il calcio d'angolo di Gerardini, ma non trova la porta. Si arriva quindi al trentacinquesimo, quando Ricucci trova la grande Gambale, che in spaccata non riesce ad indirizzare in rete. Al quarantesimo ci prova Baldesi dai trenta metri, senza fortuna, prima della più grande chance della gara, che arriva proprio in chiusura. Gambale viene lanciato in porta sul filo del fuorigioco. Il bomber di casa calcia tu per tu con Cipriani, strepitoso a preservare l'uno a uno. Termina la partita subito dopo, con Cipriani che viene portato in trionfo dai suoi, per un punto importante per la corsa playoff. Il Montespaccato si rammarica per una vittoria che non arriva e che avrebbe regalato tranquillità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.